Ciao a tutti amici e amici bentornati e bentrovati nel canale di Babafromica's Life. Vi mostro il contenuto della box 2Gut2Go del valore di 4,99€ presa dal fruttivendolo. Adesso andiamo a vedere il suo contenuto, come vedete ci sono pomodori, carciofi, uva, poi si intravede una zucca e il camolfiore, zucchine, kiwi. Adesso andiamo a prendere la nostra bilancia e andiamo a vedere il peso e quindi il valore di ogni prodotto presente nella nostra box. Iniziamo col tarare la nostra bilancia e andare a contare e a pesare tutti i prodotti presenti. Questi le vele sono 2, 3, 4, 5 e 6 per il peso di 1,132 kg. Già queste hanno un valore intorno a 2,50€. Poi le andiamo a sistemare in un sacchetto perché le devo portare da mia mamma. Poi ci sono una, due e tre zucchine nel peso di 500€, quindi mezzo chilo. Anche queste intorno a 1,52€. Quindi già sono questi due superano il valore che abbiamo pagato per la nostra box. Andiamo a contare i carciofi che sono 8. Mettiamo che costano a 70 centesimi ciascuno. Già sono 7 per 8, 56, quindi 5,60€. Quindi abbiamo superato di molto il valore di 4,90€. Poi abbiamo 700 grammi di cavolfiore. 600 grammi circa di pomodori. Una bella zucca, anzi 4 kiwi per il peso di 320. Una bella zucca che pesa quasi un chilo, 920 grammi per la precisione. Ed infile l'uva. Anche questa pesa sui due chili. Pensate che costa tra i 3 e i 4 euro al chilo. Quindi il valore di questa box è nettamente superiore al prezzo pagato, cioè 4,99€. Un bacio, al prossimo video, ciao! Ciao!